è stato emozionante chiaramente sentendo l'artista che si fa in silenzio e vedendo tutti voi gli amici che sono venuti da San Vito dai Normanni in effetti noi oggi siamo la comunità siamo le genti che fanno questo paese questo paese che ha bisogno di tutti voi di ognuno di noi con le nostre differenze con i nostri difetti con i nostri pregi sicuramente oggi si è segnato l'inizio di un nuovo percorso nel Cilento perché siete stati i primi a fare una cosa così bella e importante dedicandola all'angelo dedicandola al nostro mare io tante volte ho parlato a migliaia e forse a milioni di persone e oggi mi sento veramente emozionato perché questa è la mia terra da qui mi hanno combattuto osteggiato minacciato ma non hanno fatto nulla hanno solo scalfito nulla perché questa giornata dimostra che questo paese questa terra ha bisogno di ognuno di voi non solo di Dario Vassallo di Angelo Vassallo o di Angelo Vassallo ognuno di noi è Angelo Vassallo penso che ognuno oggi da oggi inizia un nuovo percorso perché questa non è una passeggiata di 500 passi questa è una passeggiata per il futuro per i nostri figli per le nostre generazioni e io prometto che almeno una volta all'anno verrò qui vi divulgherò questa questo sentiero questo vostro operare spiegando che nel Cilento non c'è solo la pruzza di frittura ma c'è anche il profumo dell'alegantità oltre a che del mio bravo bravo